Allora questa iniziativa che nasce da un'importante collaborazione con il gruppo Gli Eretici, che è un gruppo di scienziati che ha approfondito questa problematica, si chiama Punto Covid 360 gradi, quindi penso che basti il nome. È inutile dire cosa non è andato bene in questa gestione, perché tutto è andato male, è stata veramente un assistere a dilettanti allo sbaraglio. Invece di pochi e semplici interventi, sono stati posti in essere gli interventi più farraginosi possibile, i più complicati, quelli che non hanno fatto arrivare nulla nella tasca delle persone. Fino a ieri l'Inps deve ancora evadere 1.400 posizioni individuali, i soldi non sono arrivati e le banche soprattutto. Le banche fanno ostruzionismo a tutti quelli che chiedono soldi. Quindi il nostro obiettivo, il primo in Italia, la prima iniziativa, è quella di catalogare, classificare, già abbiamo centinaia di richieste, le banche e i motivi per cui non danno il prestito garantito dallo Stato. Perché il problema si potrebbe risolvere molto semplicemente. La banca prende i soldi dalla Banca Centrale Europea e li dà. Come molte banche, in effetti la banca di Ragusa, hanno fatto, hanno preso 200 milioni, li hanno messi a disposizione delle imprese. Siccome è garantito dallo Stato, le banche dicano che non si fidano dello Stato italiano. Noi non ci fidiamo né delle banche né dello Stato italiano. Per questo siamo in campo, a fianco di chiunque voglia, come associazione dei consumatori ed in modo assolutamente gratuito. Mettiamo la nostra disponibilità. Se la gente vuole venire, che venga, che faremo di tutto per fargli avere la tutela dei loro diritti. Chi pagherà per i morti avuti a Messina? Ma questo il problema lo giro agli scienziati, a quelli che possono studiare analiticamente. Sicuramente la prima gestione di questa pandemia è stata molto leggera. Nel senso che si sono consentiti accessi in strutture molto delicate e poco protette. Se noi guardiamo i morti di Messina, 26-27 sono proprio di una casa di riposo vicino a questo luogo della nostra conferenza stampa. Quindi se voi togliete quel numero di morti, vedete che Messina poteva benissimo stare senza Locke Down. Invece ancora oggi si continuano a prescrivere delle indicazioni che non sono assolutamente necessarie, che fanno male solo all'economia e al commercio. Lei pensi alla norma assurda? Perché il bello di tutto questo sono le decine di milioni di euro che è costato questo enorme numero di esperti, questo assembramento di menti e di soggetti presso gli stati generali, ma evidentemente il premio e il governo non si ricorda come sono finiti gli stati generali. Ecco perché questa volta i poveri non li hanno invitati, ma i poveri stanno per le strade e vorrei dire sono pronti. Ma soprattutto un messaggio vorrei lasciare. Se il governo non ci mette in condizione, lavoratori autonomi, professionisti, commercianti, imprenditori, artigiani, di avere dei soldi per far ripartire l'attività, allora a settembre è inutile che rimandano le tasse, le tasse non le paga nessuno e questo non è un invito alla rivolta fiscale, ma questa è un'ovvia conseguenza, se la gente non ha soldi per mangiare, come fa a pagare le tasse? Quando poi a settembre, perché adesso vedete l'obiettivo è stato spostato a settembre, a settembre si programma, a settembre si organizza e ancora ci sono tre mesi di fame, cioè giugno, luglio, agosto e poi forse a settembre ci sarà un programma, ma ci volevano mille esperti per dire questo. Ma se anche all'interno dei partiti di governo c'è chi dice che devono ripartire i cantieri, ci sono poche iniziative, adesso non le voglio elencare, poche piccole cose che una persona dotata di un minimo di intelligenza, come hanno dimostrato di avere chi ci governa, potrebbero mettere in moto l'economia. Ecco, questo è il motivo per cui siamo scesi tra la gente, non è la prima volta, basterà cercare la storia di consumatori e sociali, vedete che per Messina e per tutta l'Italia abbiamo fatto tante battaglie. Questa volta siamo i primi in campo, punto Covid 360, a disposizione di chiunque sia stato colpito nella salute, con la nostra autorevole collaborazione con il gruppo degli eretici e con il nostro team di legali per tutti i problemi connessi.